Buongiorno a tutti. Noi siamo i ragazzi della Live Music Academy e questa sera, questa è la terza delle nostre serate estive. Ne avremo una quarta, il 23 settembre, che sarà l'ultima. Prima di tutti, qua sul palco abbiamo Luca Pazzo, che ci canterà tre dei suoi metti. Grazie Francesca. Allora, volevo dire intanto che dopo la voce meravigliosa di Lorenza e la chitarra di Fabio, se volete andare via siete autorizzati. Ho due secondi di tempo e poi cominciamo, ok? No, ok, perfetto. Di mani, è ottimo, grazie. Questa è Only For You. Diciamo, ma la moto? Sì, così. Sì, così. Sono stato un dettare sui metri e un po' più. Ma se penso che ci sei, sono come quelli da su. Quelli che ci sono stati e sono portati giù. E hanno detto che la vera luna è vera luna, per me sei tu. Quante volte è già successo, fai sentirmi un po' insicuro. Ma ad un tratto appari sempre con quel peso così puro. E la forza che mi manca, con te ce la metti tu. Con le parole che mi dici, sono veri e belle. Non li voglio. Non li voglio. Ora che le vite vivono, ora che le mani stringono quello che ti volo c'è. Non li voglio. Somma e se verà te All for you All for you All for you Only for you Only for you